Milano-Certosa, stazione Milano-Certosa, treno 10-6-6-0 di Trenitalia del Leone. 8.57 per Novara e in partenza dal binario 2, firmarò in turno 1, contenta, magenta, frecate. Milano-Certosa, stazione Milano-Certosa, treno 10-6-6-1 di Trenitalia delle ore 9 e 0-1 per Pionzello, limito e in arrivo al binario 5, ferma in tutte le stazioni. Milano-Certosa, stazione Milano-Certosa, trenato 10-6-1 di Trenitalia delle ore 9 e 0-1, continuando per la partecipazione di Trenitalia delle ore 10 e 0-1. Grazie a tutti. 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 a tutti. , a tutti. , 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 ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,, ,,, ,, ,, ,, ,,, ,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,, ,,, ,, ,,, ,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, 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 ,,,, ,,,, ,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,, ,,,, ,,,,, ,,,, ,,,,, ,,, ,,, ,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,,, ,,,, ,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,,,,, ,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Sì, sì, sì. Atenso dal binario 4, con il testo informatico di mette. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 , , a tutti. 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 , a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. , a tutti. 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 , , a tutti. a tutti. , a tutti. 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 a tutti.